Ciao a tutti e bentornati ai video dell'Acero Contuso Oggi faremo un giro nell'orto, ormai preparato per le coltivazioni invernali Come ricordate l'orto è composto da 6 cassoni che consentono una buona rotazione delle colture Nel primo cassone troviamo scarole, lattughe, a riempimento dei vuoti, porri, cicoria e, in fondo, un'erba pepe e una acetosa rimaste dalla primavera scorsa Nel secondo cassone abbiamo seminato piselli e Chocolates Cavolo minestra Broccoletti A fianco dello spinaccio neo-zelandese piantato a giugno E un'altra fila di piselli Nel terzo abbiamo agli Scalogno E cipolle dorate Nel quarto E radicchio variegato Indivia riccia C'è anche un aglio elefante sfuggito al raccolto Cavolo cappuccio piatto Nel quinto cassone abbiamo seminato ravanelli Di due tipi Valeriana E rucola E rucola Nel sesto e ultimo cassone abbiamo ancora una melanzana in produzione Ma sotto abbiamo scarole e indivia riccia Un prezzemolo Bruccoletti Finocchi Una pianta di peperoni avanzata E una di peperoncino che fra poco metterò in vaso e porterò a chiuso Arrivederci alla prossima I won't be waiting I won't be waiting I won't be waiting Right here I won't be waiting Right here Grazie a tutti.